amici sportivi bentornati nel canale beh innanzitutto ci bevamo un caffè perché finalmente riesco a fare un video giornata è la prima volta credo da quando ho riaperto questo canale youtube quindi mi bevo un caffè alla faccia vostra sto scherzando però sebbene sono in inghilterra il cappuccino deve essere fatto bene e quando lavoro non sapete che l'allenatore lo faccio dal pomeriggio in poi la mattina perché il mio sponsor oltretutto mi ha messo nella cucina dieci anni fa quando ero al West Ham e lo ringrazio sempre perché mi ha dato questa opportunità chiaro che devi avere il patentino UEFA però se no non avresti questa possibilità però facendo lavoro e allenando sono entrato in un mondo che quando ero in Italia restavo sempre lì sul semiprofessionista sono anche adesso semiprofessionista perché comunque lavoro però mi diverto e concludendo quando faccio la mattina il lavoro che è da di solito dalle sei di mattina fino alle tre quattro giorni alla settimana chi è al bar deve farvi bere il cappuccino essendo che qui non sanno fare bene l'ho imparato a fare io con la macchina io non avevo mai né cucinato né niente prima e questo cappuccino me lo sono fatto io perché sono qui praticamente nella nell'area dove dove ci alleniamo detto questa stupidaggine che non mi interessa vi voglio ringraziare perché quando vi ho buttato l'idea di fare il bar dello sport vi è piaciuta mi avete scritto dei commenti e sarà veramente un bar dello sport dove io non sono più allenatore ma sono uno come voi quindi quando sparo cazzate mele no mi dovete menare detto questo io voglio parlare della premier league ieri e oggi ci saranno due partite molto importanti c'è il West Ham l'Everton e il Tottenham che se vince raggiunge il City il City è in crisi ma il City in crisi che ha perso con l'Astonville e io quante volte vi ho detto guardate l'Astonville studio ha battuto il Tottenham ha battuto se non sbaglio ha pareggiato con l'Arsenal adesso non ricordo con l'Arsenal cosa ha fatto anzi no è questa la prossima sedicesima proprio con l'Arsenal io vi ho detto che per me l'Astonville potrebbe vincere il campionato anche se la candidata numero uno perché non ha coppe e gioca l'Europa League ma comunque ha delle partite molto semplici e può giocare anche con la seconda squadra per il momento è Liverpool in assoluto perché Arsenal e City sono impegnati in Champions League e City comunque ricordatevi una cosa e Liverpool anche ha questo problema ma molto meno l'Everton e non guardate la classifica dove sto perché gli hanno tolto 10 punti e ricordate che Chelsea che dovrebbe togliere dei punti anche il Chelsea che viaggia veramente medio bassa classifica cioè sono a rischio di retrocessione per i problemi UEFA non è uno scherzo qui ne stanno parlando Guardiola è sotto pressione su questa cosa poi ha avuto anche da ridire un po' come fa Mourinho quando esplode contro i due ex del Liverpool che fanno i commenti qua United e del Liverpool Gallagher è l'altro che adesso non mi ricordo il nome e dicendo perché ha fatto un po' sbruffone ha detto quest'anno vinceremo la Premier vinceremo ancora gli altri gli hanno insomma detto stai calmo che già i problemi qua e là in effetti City ha giocato male non ha giocato una gran partita però è anche vero che secondo me la federazione qualcosa prende perché nell'ultima partita prima di questa il City è rimontato col Tottenham una grandissima partita una bella bella ci sono stati errori molto più importanti di questo Napoli-Palermo è stata veramente una stupidaggia perché questi falli che vedete di Lautaro perché io non per me è regolare perché quello ha iniziato quel fallo praticamente 40 secondi non incide nell'azione del gol qui in Inghilterra non li fischiano qua si entra già è per quello che la differenza io da quando sono arrivato a allenare qua qua si entra si martella è un calcio che non mi piace lo ripeto sempre lo dico mille volte e guardo quello italiano anche a livello giovanile ma qua si entra boom boom io faccio un'ora di allenamento in Italia dovevo farle un'ora e mezza per avere la stessa intensità perché i ragazzi arrivano qua sono già pronti a martellare questa è la gran differenza mettetevelo in testa sta cosa qua il ritmo è molto molto più alto la qualità è più bassa ma come fai ad avere una gran qualità quando devi essere veloce in Italia poi certe partite puoi stare un po' più lento anche per le temperature anche per tanti fattori non è detto perché adesso gli italiani stanno crescendo come ma molte squadre tengono il baricentro basso qui non è importante il baricentro alto ma è l'intensità che devi dare e soprattutto adesso che si gioca a periodo di Natale ogni tre giorni ragazzi qui l'intensità tu la devi avere detto questa cosa qua l'Arsenal è pienamente in testa con Liverpool che ha vinto contro l'ultimo in classifica ma facendo fatica solo 2-0 io ve l'ho detto United metterà in corda come Luton tante squadre Luton ha perso 3-4 all'ultimo secondo una partita incredibile e City ha perso malamente perché quel gioco lì non frutta adesso e ah scusatemi con City con Tottenham è stato annullato un'azione che potevano fare 4-3 incredibile era regolare non so se l'ha fischiato perché era l'ultima azione secondo una roba molto più scandalosa per non parlare dei due quando Liverpool ha perso due espulsioni inesistenti contro il Tottenham cioè voglio dire qui la lamentela c'è ma voglio dire come fate io adesso ho visto tutti contro l'Inter tuffatori quando era la Juve tutti contro la Juve lo scorso anno si cercava sempre il cavillo del Napoli che era aiutato su qualsiasi stupidaggine quando tu sei la prima della classe è normale che un aiuto ti arriva nel senso che è normale perché sei tu che comandi il gioco l'altra magari ti fa io ho visto un Napoli che ti ha aggredito che ti avrebbe però mi dava la sensazione che alla prima azione dell'Inter ti faceva gol e così è stato quindi non venite a raccontarmi che con i sei con i male partite dura 90 minuti il Napoli ha fisicamente quel ritmo lì per 40 minuti e non di più e poi cade 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 e non è solo colpa dei difensori è il centrocampo non va lo botta i giocatori che non sono più funzionali questi giocatori che al Napoli al centro campo Anguissa lo botta andavano bene lo scorso anno in quel campionato fatto in due frangenti una prima parte riposo è una seconda parte fatto di tanti fraseggi ed era un calcio che era giusto ma per un calcio che giura in Inghilterra questi giocatori non giocherebbero neanche titolari ve lo posso garantire sia lo botta e anche se sarebbero dei buoni panchinali perché bisogna martellare bisogna andare dentro questo che io continuo a sostenere ripeto sono ottimi giocatori però non sono più funzionali al Napoli attuale il Napoli attuale ha bisogno di giocatori bom bom fisicità anche se si ce lo ha però non è partito bene è inutile raccontarselo speriamo che per il Napoli che ritorna e il problema a livello fisico quindi anche se fosse il coreano scorso anno il coreano faceva il reparto da solo all'ottanta per cento è inutile e un altro errore grosso del Napoli che è stato fortunato trovare il coreano aver perso il greco che quello aveva tenuto in piedi con tutti gli errori che ha fatto Koulibaly e che continua a fare perché Koulibaly anche nel campionato l'Arabo continua a fare errori ne ha fatti qua con il Chelsea cioè era in fase carante da molto molto tempo quindi lasciamo tempo a Mazzari di lavorare e anche a Garcia di trovare il centrale giusto quello è l'obiettivo del Napoli scordatevi fin dei conti il Napoli è campione d'Italia fino alla fine dell'anno quindi deve trovare una sua identità e magari arriva in finale in Champions come è successo all'Inter lo scorso anno che ha avuto un momento che non sapeva come come istituire gli infortunati ve lo ricordate no? e quindi lasciamo il Napoli lavorare tranquillo e non mettiamo pressione ok? però sui falli presidente non fare tutte quelle sceneggiate là il rigore ci poteva stare come no in Inghilterra probabilmente non le fischiano neanche sui contatti quel fallo là c'era ma è iniziato un minuto prima il gol tu l'hai preso su un'azione normale è possibile che nessuno sa fare un fallo che tutta la difesa è in balia quello è il concetto su cui parlare non sul fallo sullo botte andiamo invece con le partite della Premier Cristian Palace ha giocato malissimo ha perso col Bormut se non sbaglio il Bormut io ve l'ho detto è una bella squadra mi piace come gioca mi piace allenatore purtroppo quando vi ho detto che mettete che vince ha sempre perso quindi non dico niente però Cristian Palace Liverpool Liverpool mettete Liverpool senza ombredo anche se lo scorso anno Liverpool ha fatto 0-0 lì e tutti gli hanno detto ed è difficile per Liverpool ogni volta che va al Palace se non volete rischiare mettete Under 2 gol ma comunque Liverpool vincerà Wolves ha battuto a fatica ma ha battuto il Barney 2-1 e adesso si gioca col Forest che ha perso 5-0 col Furno non me l'aspettavo per cui mi viene a pensare che il Forest sebbene lotterà il Wolverham vince questa partita comunque qui siamo due io penso un 2-0 per il Wolves o un 2-1 qualcosa di questo tipo qua Brighton con il Barney è una bella partita su tutte le squadre che giocano viso aperto perché il mister del Barney era il difensore centrale del City fa giocare la squadra alta e non frega niente che sono bassi in classifica e il Brighton sta facendo bene adesso che non ha le coppe si è ripreso bene quella di De Zerbi è sempre nella posizione di medio alta classifica per cui dico che sarà over 2 gol e mezzo sicuramente non vi garantisco che Brighton vince però comunque tutte e due segneranno sicuramente Sheffield United e Brentford sono le due classiche squadre che giocano insieme all'Uter proprio all'inglese dove il Brighton ha un po' più esperienza ma Sheffield sta lottando con tutte le sue forze veramente per restare in categoria come Newton per cui qua mettete tutti e due che segnano perché io non vi posso garantire chi vincerà non ve lo posso garantire anche se certe partite a volte finiscono 1-0 ma non queste Sheffield United farà di tutto per fare un gol e il Brighton ha la stessa maniera quindi o mettete Under 2 gol o tutti e due che segnano perché secondo me 1-1 è il risultato esatto di questa poi c'è United e Bournemont è una partita United si sta riprendendo bene anche come gioco ieri ma sta segnando più con i centrocampisti ieri ha segnato McTominay che è un centrocampista che mi piace ecco per esempio questo al Napoli sarebbe utile non è un giocatore eccesso però è uno che corre, macchina, si inserisce, bombo un po' come i centrocampisti dell'Inter Napoli ha bisogno di quei centrocampisti la Juve ce le ha cioè Rabiot sarebbe perfetto per la Premier League e infatti chi sostiene che Rabiot è scarso forse è scarso nel campionato italiano dove noi ci piace vedere però a livello di intensità è campione del mondo dove lo metti lo metti è una macchina e sono quelli i giocatori purtroppo che adesso vanno di moda capite? e dico purtroppo anche per il settore giovanile quindi United-Bormut over due gol penso che segnerà per primo il Mormut e dopo United rimonta o United segna il Bormut segna comunque tutti e due segnano qui Aston Villa-Arsenal è la partitissima insieme a Tottenham-Newcastle ma questa è la partitissima qua si decide se l'Aston Villa batte anche l'Arsenal per me diventa la candidata insieme al numero uno tipo l'Eister qualche anno fa Aston Villa ha una tradizione alle spalle molto più importante dell'Eister però comunque Henry sta facendo un lavoro ragazzi al bacio Henry è un allenatore che ha vinto tutte quelle coppe con la squadra spagnola e all'Arsenal ha creato le basi per arrivare così il mister dell'Arsenal lo sapete benissimo è stato un gran giocatore proprio dell'Arsenal e ha lavorato alle spalle del mister del City per tanti tanti anni bella bella partita bella partita over due gol non credo che finirà 1-0 come è successo col City oppure dai facciamo così forse finirà chi segna vince perché hanno fatto troppo gol in queste giornate qua e questo è troppo importante chi segna vince quindi mettete under due gol non rischiate Luton-City è qua Luton se lo guardate la quota è altissima il City ha perso già una partita ed ha over 3 gol e mezzo sicuramente per over 3 gol e mezzo potrebbe finire 3-4 come è finita con l'Arsenal quindi non è detto che li segna tutti i City mettete over 3 gol e mezzo qua Fulham-West Ham il Fulham che non mi è piaciuto ultimamente è andato a vittore non riesco a capire è un derby ma il West Ham oggi vince la partita ragazzi sto guardando la classifica dove il West Ham va a 29 cioè ha un punto dal City ragazzi e il West Ham sapete come gioca? all'italiana è l'unica squadra che gioca all'italiana compatta dietro sembra la Juventus inglese per cui ragazzi il Fulham-West Ham io credo che il Fulham dopo che ha vinto 5-0 non batta il West Ham credo che tutte e due segneranno ma il West Ham la passa questa Everton-Celsea l'Everton ha più punti del Chelsea solo che gli erano tolti cioè avrebbe due punti meno in pratica quindi è una partita molto equilibrata l'Everton sa chiudere bene tutti gli spazi sa chiudersi bene gioca anche un buon calcio nonostante vediamo cosa fa oggi l'ho vista nella vittoria contro Nottingham Forest e non perderà questa partita l'Everton quindi mettete doppia 1-X perché è il Chelsea super favorito e alla fine Tottenham-Newcast che si gioca domenica era una partita delle non deluse perché Tottenham non mi sta per niente deluse avendo perso la centroavante titolare e se vince oggi è lì ha avuto un momento di sbandamento ma è lì fa un buon calcio fa un buon calcio assomiglia all'Inter come modo di giocare un po' il Milan diciamo più il Milan scusatemi un po' più il Milan ecco e Newcastle è la delusione perché comunque la troviamo a 26 punti e se vincesse va scusatemi il West Ham era a 21 vi ho detto una stupidaggine andrebbe a 24 mi sembrava strano e Newcastle stasera vince va comunque in ogni caso è lì il West Ham vicino al Brighton andrebbe a 29 e le hanno il pacchetto per arrivare nelle prime 4 però qualcosa che non funziona quest'anno fanno delle partite buone e delle partite meno buone gioca tanto con intensità aver perso tornare probabilmente gli ha perso quel giocatore che dà un po' di idea al centro campo però ha dei ottimi giocatori attenzione fatti lì e poi sicuramente a gennaio prenderanno un giocatore perché i soldi da spendere ne hanno però non sono stupidi con la dirigenza sanno che possono andare fuori del fair play finanziario per cui sono tutti concentrati a cosa succederà nella partita con il Milan in Champions League per cui aspettiamo prima di dire Newcastle perché quello deciderà il futuro del Newcastle Tottenham Newcastle mettete tutti e due che segnano e siete tranquilli ragazzi io ho fatto un video un po' lungo un po' lungo però era giusto fare così mettete questo pollice perché comunque date un po' di supporto al fatto che si cerca di fare questi video in un canale completamente gratuito e perdere in questa vita frenetica anche un quarto d'ora venti minuti per parlare dell'ogare con voi fa piacere a voi che mi vedete e sentite ed anzi dalla prossima video vi prometto che prima di fare le previsioni di qualsiasi partita o di parlare vi parlo un po' cosa si vive dentro nello spogliatoio sia da giocatore sia io non sono arrivato a grandi livelli sono arrivato fino alla serie D ma voglio dire mi ha permesso di avere il patentino UEFA però col settore giovenile sono arrivato fino al treviso calcio perché questo è non da poco non da poco per cui ed allenatore sapete insomma sono dieci anni che sono con le società professionistiche qua in Inghilterra e in Italia sono state comunque le semiproessioniste pur avendo fatto il corso con l'Inter di Facchetti nel 2004 pur avendo lavorato con il Chievo Verona pur essendo stato direttore tecnico di tutto il settore giovenile nella squadra semiprofessionista e allenando i campionati in Italia regionali e sperimentali invece qui in Inghilterra ho fatto i nazionali però da secondo allenatore si chiamano sperimentali in Italia però qui hanno un altro nome per cui vi parlo un attimino di questo mondo qua che io lo sto trattando adesso un po' sempre di meno perché ho fatto il patitino scouting sto cercando di diventare più uno che va alla ricerca mi sto un po' togliendo dai campi e insomma è una scelta che uno fa insomma anche per avere più tempo per me e mi permette di fare dei video con voi ne parleremo di questa cosa buon Premier League a tutti quanti